ciao a tutti ragazzi io sono gif g e adesso andiamo a riprendere code dopo che c'è stata l'esplosione di un ordigno nucleare e noi siamo stati investiti dall'onda d'urto precipitando con l'elicottero abbiamo lasciato così adesso ricominciamo rituffiamoci nella battaglia almeno credo se siamo sopravvissuti ok andiamo a vedere cosa ci fa fare ecco l'esplosione e noi siamo laggiù dopo una missione di recupero un tentativo di recupero che si può dire praticamente fallito eccoci qua va bene ci tocca stresciare fuori siamo messi malissimo forza forza sop guarda che macello sembra un inferno i nostri compagni sono a terra ok siamo finiti di nuovo for terra guardate che roba è un macello per fortuna non eravamo proprio là vicino mamma mia che incubo ok adesso che succede Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma mia se sono... Sono parecchi ingombranti. Ah, un attimo. Vediamo che arma ho. Fucile. Ok. Cazzo, granata! Ma toglietevi! Mi faranno morire prima o poi. Dov'è che sparano? Maledetto cane! L'avete visto? Uh! Che dite? Avanziamo! Sop, richiedi supporto aereo per quell'edificio. Ok. No, ho sbagliato. Adesso tira sul... Attenzione. Ah, meno male che lo capisce da solo dove deve sparare. Dove siete voi? Ah, vi siete tirati indietro! Ah, ok. Attenzione. Ma mi tengo il fucile a poppa per adesso. Cazzo! Eh, meno male. Uh, non ho capito. Ma guarda che palle. Elicottero in arrivo. Ci passiamo noi. Passo e chiudo. Dai, ma perché l'ho sbagliato ci va tutto questo... Ah, uno dei nostri è quello. Dai, ma dove spara? Vabbè, andiamo. Cazzarola, ci hanno preso in pieno. Eh, vabbè, dai. Oh, è partita un po' male, eh, sta cosa. Avanziamo. Cazzo ci sparano dappertutto. Ah, guardarò lassù. Cazzo! Eh, l'ho vista. Ok. Va bene. Adesso. Bravi. Aspettiamo che... Guarda lì. Coprite voi. Allora, mi sa che dovremmo usarlo tante volte, sto elicottero. Merda, merda. Oh. È andato giusto il giro? Andiamo, andiamo. Allora, il nostro obiettivo deve essere una di quelle case lì. Qui, due e cinque. Ci servono munizioni e carburante. Non saremo disponibili per un po'. Ogni volta. Allora, gas. Lo vedi che sono là che ci sparano. Cazzo, se ho senza armi. Uh, stavo rimanendo... No, no, no. Merda. Con il uso in due e cinque, siamo pronti ad attaccare in attesa di nuovi ordini. Ah, guarda. Dobbiamo beccarlo, sto alasada, sto giro, eh. Sembra... Comincia ad essere un po' troppo impegnativa. Allora. No, no. Merda, ma ma sto prendendo tutte le granate. Allora. Guarda, dov'è che sparano? Forza. Eh, dai, che no. Non funziona così. Cazzo, ma voi non sparate, eh. Era quello il segreto. Edificio sicuro. Nessun segno di alzata. Avanti. Ok, questo è stato... Ah, aspetta un attimo. Proseguiamo, allora. Altro edificio. Ecco ste granate. È lui che ce le tirava. Va bene. Allora, ne abbiamo una qua sotto. Vediamoci più in calma. Ah, eccolo qua. Diamo il segno laggiù. Merdetti. No, è vero. Facciamo esplodere sti cavolo di carri. Va bene. È arrivato l'elicottero. Possiamo muoverci. Edificio sicuro. Passiamo al successivo. Ok. Così vi voglio. Bravi. Cazzo, ci sparano anche da sopra. Va bene. Entriamo, allora. Noi siete voi? Cos'è? Cos'è? Ah, questi qua servono sempre. Sopra. Ok, caso. Andiamo sopra. Checkpoint. Goemosen 2.5 siamo pronti ad attaccare in attesa di nuovi ordini. Va bene. L'abbiamo visto tutto qua. Andiamo al prossimo. Mi sa che sarà bella lunga questa missione. Va bene. Tutti giù. Qua sotto. Hanno un pelo di umidità, eh, questa cantina. Ok. Allora, abbiamo una a 40 metri qua. Ma che cazzo è che ci spara? No, ho preso caso. Poverino. Sempre lui sparo. No, 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 no. Succa. Dai, 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 dentro. Dove siete? Guarda sopra. Se riesco a non farmi ammazzare. Edificio sicuro. Ora controlliamo gli altri. Ok. Ce ne manca un altro. Dovrebbe essere quello lì. E allora, ragazzi, via. Si riparte. Prossimo edificio. Dov'è che ci sparano? Cazzo, 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 cazzo. E' stardo, dov'è? Gas mi ha fatto... Mi ha fatto pagare addosso. Può smettere di comparirmi così davanti. Ok. Anche questo è fatto. Alla fine, pensavo fosse qui. Ah, ce n'è uno lassù. Cavolo. Ecco, bravo lì. Mori. Mi passi direttamente sotto il mirino. Allora, là ce n'è uno. E ce n'è uno ancora in punta. Ok. Torniamo giù. Proviamo a uscire di qua. Bravo. Oh, mi piace sta cosa. Allora. Dov'è? Qui abbiamo un'altra cantina... ...non allagata. Cosa sta bruciando? Vabbè, via. Andiamo di qua. Dai che ci siamo. 60. Checkpoint. Cazzo, cazzo. Pieno di gente. E allora? E' qua sopra, è qua sopra il nostro... Oh, è escluso tutto? No. Ma dove sono i miei? Via. Adesso passo da dietro. Dove siete? Ok. Sicuro? Secondo me si teletrasportano loro, eh. Recuperiamo un po' di munizioni. Che tutto serve sempre. Soprattutto granate. Ah, fammi vedere un attimo sopra cosa c'è. Niente. E dai. Datemi. Va bene. Allora ci resta solo... Quello laggiù. Vediamo un po'. C'è nessuno? C'è nessuno? No. Andiamo allora. A stardi mi hanno visto. E che mi dico? Oh, torno in casa. Non metterci davanti. Hanno il viziaccio proprio di dar fastidio ai compagni. in posto di aiutare. Aiutano proprio poco. Oh, guarda lì. Va bene. Possiamo avanzare tranquillamente. Ah, un attimo. E c'è anche il fienile. Quelli là ci sparano sicuramente dal fienile, eh. I furboni. Grande. Ahaha. Bello, però. È ben animato. Andiamo a vedere in casa. E' tutti morti? C'è un cane? Non c'è. Qua? C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Dai, dentro. Ricordate, vogliamo Al-Assad vivo. Morto non ci serve a nulla. Andiamo. Bravo. L'abbiamo preso finalmente. Perché l'hai fatto? Come hai avuto la bomba? Chi allora? Chi voglia il nome? Così, tutto al buio. Non c'è nessunato. Voglio un nome. Ah, ecco. E dagliene. Pronto? Ah, eccolo lì. Signore, il suo cellulare. Sì, mamma. Non mi devi chiamare sul lavoro. Voila. Mi sa che non era la mamma, eh. Ah, ha buttato via anche il cellulare. Zakaef. Zakaef. Imran Zakaef. Ok, credo che sia il mandarino. Va bene, ragazzi. Questa missione finisce qua e ci fermiamo anche noi. Ciao a tutti. 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 Grazie.